Ciao Niappa Family, sono tornata con un altro video e finalmente un video haul. Non vedevo l'ora di registrarvelo proprio perché voglio togliere tutto dalle busse. Sapete, è proprio una cosa che dici, oddio, mi devo sbrigare e devo togliere tutto dalle busse. Ma fondamentalmente non ci ho avuto tempo manco di pensarla a sta cosa perché i primi giorni dell'apertura del negozio sono state esaurite. Se non sapete che mi sono aperta un negozio, andate a vedere il video prima di questo e insomma lì ve ne parlo. Qua ho il mio caschetto che spunta, ho messo male queste qua con le clip, vabbè fate finta di niente. Ho cambiato colore di capelli, mi sono rifatta castana perché mi facevo nera, nonostante a malincuore vi dico che mi sono tolta il nero, mi facevo nera ma col verde che c'avevo prima sotto mi escivano sempre dei riflessi grigiastri. E non riuscivo a debellarlo, quindi facendo nero, 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 un seto lievo, ho detto sai che c'è? C'è o ne! Quindi mi sono fatta castana, col castano mi posso mettere station tutte castane, posso giocare con i punte più chiare fa o shatush. Ho detto vabbè, poi in futuro dio vede provvede perché tanto sappiamo tutti quanti che io sono matta. Vabbè, iniziamo con lo shopping, iniziamo con lo shopping, prima bustina Tally Whale. Ho comprato sto giacchino leggerissimo dei jeans, che manco sembra jeans in realtà, pagato 19,99 da 29,99. È tipo a crop top, ho preso una taglia L perché mi piaceva un po' più largo perché fa quello stile un po' oversize, 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 vabbè, avete capito? Ed è mimetico su rosa, vedete, è un po' grigio, un po' rosa, che poi è un rosa all'illetto, non so, mi piaceva tantissimo. Non so quando lo metterò perché io vedo che ci stiamo avvicinando a giugno, a giugno fa caldo e qua non lo metto, si giorni diluvia e fa freddo e qua non lo metto, boh, vabbè. Poi, da Alcott ho preso un vestitino che mi piace il modello, ma la fantasia non è molto nel mio genere. L'ho pagato 19,95 euro. Ah, avevo preso pure una spugnetta, tipo una blender a 1,95 euro che era fucsia bianca, ma sta giù. Non mi piace tanto la fantasia, però, preso come un vestitino sportivo e abbinato con una converse e una borsa, che ne so, sul rosso o sul nero, dici, vabbè. Il vestitino in questione è fatto così e c'è una storia curiosa ed affascinante. Praticamente, qui in vita ha quell'elastico, insomma, che te lo fa diventare rente e poi allungo fino ai piedi. Io mi ho metto, ce ne ho tanti fatti così dei vestiti, mi ho metto e praticamente c'ho due buchi qua. Dico, ma come cazzo, eh, ma che è successo? Perché, uh, ok, operativa. C'ho due buchi qua e dico, ma come cazzo è possibile? Vabbè, dopo tre ore capisco che ci andavano infilate ai mani. E il vestito da che era a fascia, quindi infilandoci ai mani, arrivava qua e sembrava un sacco di juta. Cioè, brutta frase, ho detto, sai che c'è? Io mi compro una bella fascia con magari il pizzo, vabbè, qualche lavorazione, mi ho metto a fascia e mi ho lascio aperto qua sui lati. E quindi, niente, così ho fatto. Mi so, ho dovuto a piana M, nonostante è larghissimo e calza veramente tanto, perché mi stava corto. E quindi questi sportivi che io metto con le Converse non mi va che mi si veda la caviglia. E quindi ho preso M. Ok, quindi, quel vestito là. Poi, da Tiger, perché al Gran Roma, al centro commerciale dove sto, c'è Tiger, ho preso un rossettino a salvadanaio, che io ovviamente non userò come salvadanaio, ma come oggetto di decoro per la camera. Cioè, guardate quanto è bello. Ho pagato 5 euro, c'era anche il rosso. Mi sorella ha detto, prendilo rosso, prendilo rosso. Io però ho guardato e ho detto, ma io, fondamentalmente, nella vita reale, rossetto rosso, non uso quasi mai. Quindi ho preso rosa. Ed è molto carino. Ci stanno un sacco di cose, con i rossetti, pure i portagioielli, non lo so, a me sono innamorata. E in più, sempre da Tiger, sono arrivate due ragazzine che mi hanno fatto un pensierino. Cioè, regà, grazie. Mi sono scritta i loro nomi sulla busta per ringraziarle nel video, perché... Io non me ne ricordo un cazzo. Vanessa e Veronica. E mi hanno preso le lettere col mio nome. Non so da che lato le vedete bene, vabbè. Mi hanno preso le lettere col mio nome. E appena c'è due minuti di tempo, le gonfio e le attacco qua dietro. Fanno un po' il decolore. Grazie, ragazze. Mi mando tanti, tantissimi baci. E tra l'altro, parlando del negozio, ho fatto l'inaugurazione del 17. E, cioè, ovviamente non scelta da me, perché se no non sceglievo il 17. E niente, siete venuti in tantissimi. Io ho fatto tanti eventi nel corso degli anni, ma mai vista una cosa del genere. Cioè, dalla mattina fino alla sera, il negozio era sempre, sempre pieno. E mi siete venuti a trovare anche nei giorni successivi. Infatti, vi ringrazio di tutto l'amore e l'affetto che mi avete dimostrato. Mi avete mandato dei messaggi bellissimi e si vedeva proprio che eravate contenti per me. In più, ci sono state persone che sono venute anche da fuori e si sono fatte parecchie ore di macchina, tra cui la mia amica Camilla, che, cioè, amo, so che guardi i video, quindi, cioè, io quando l'ho visto, poi, vabbè, si è visto, perché comunque non sono una persona che si affinge. Cioè, ogni emozione, ogni cosa che provo, mi si vede in faccia. Quindi, cioè, io rimasta scioccata e ho detto, no, non ce ne credo, ma è lei o non è lei? Era lei. E quindi, niente, vi volevo ringraziare. A questo evento abbiamo regalato le roselline dei Yamamai, che all'interno c'era il perizomino. E il perizomino è questo qua. Cioè, taglia normale e diventa adattabile a tutte. C'ha una farfallina stilizzata sopra. All'inizio mi sembrava meno brutta. Mucà, guardo bene, è un po' brutta, ecco. È un po' tanto brutta. Però, vabbè, io ogni volta che vedo questo perizomino e sta rosa, penso sempre all'inaugurazione e a voi e a quando me lo date, che eravate tutte quante contente. Se siete venute all'evento, commentate con l'emoticon della rosellina rossa. Raga, veramente grazie a tutti, pure a chi non c'è stato e mi ha mandato il messaggino che ha trovato due minuti di tempo per scrivermi. Grazie, grazie, grazie. Vabbè, andiamo oltre. Nel mio negozio, che, cioè, io nel video di presentazione, cioè nel video dove ho detto la notizia, ho più o meno detto, Pio lo stipendio, esco fuori dal negozio e ha finito lo stipendio. Raga, in realtà, cioè, io sono una fallita, perché mi soffia tutto nel negozio. Cioè, ci stanno cose che ti piacciono, cose che non ti piacciono e cose che dici sì, carina. Quando vedi le cose che dici sì, carina, e ce le hai tutti i giorni davanti, alla fine poi ti piacciono, come una moda, che magari, tipo, io mi ricordo, quando sono uscite le scarpe a cararmato, io, eh, che schifo, mai nella vita. Dopo un po', a forza dei vedelle che te propinavano sempre davanti l'occhi, sempre cararmato del nuovo modello, cararmato del nuovo colore, cararmato addosso amiche miei, poi, alla fine, ti piace. E quindi, niente, raga, a me piace tutto. Voglio la tutina, quell'antera dei jeans, voglio il pantalone da mare. Vi sto appeso il lagno, ho dato una lira, se hai provato una, io così. Cioè, raga, io so già che andrò fallita. Vabbè, vi faccio vedere che me ne so presa. Me ne so presa so reggiseno, che dalle statistiche è il più venduto. Questo qua, guardate quanto è bello. Ho preso un balconcino, e di questo qua ci stanno un sacco di cose al negozio, tipo la vestaglia lunga, fino ai piedi, tutta trasparente, che io mi sono immaginata, ho detto, oh mio Dio, immaginate le foto quando tu sei una sirena ed esci dall'acqua. Cosa assurde. Vabbè, raga, questo. Ho preso ste mutande, e niente, le vedevo un po' strettine, cioè, sono grandi, però ho detto, non mi piace quando mi fanno il segno sui fianchi. Le ho messe da cassetto a cassetto, ho detto, me le allargo 10 minuti, quindi sono state così. Raga, sono stata lì sul cassetto per 4 giorni, perché me le sono dimenticata, e questo è il risultato, me le perdo. me le perdo. Allora, qua c'è ancora il cartellino, 14,95 euro, che so i prezzi impostati dall'azienda, e questo è il mio modello preferito, è il tessuto riciclato, cioè, raga, la mia vita mi ricorda troppo l'estate e il mio periodo da bionda. Sa squillare il telefono, ha risposto a mia madre. Questo 7,95 euro per i zomino, che, vabbè, potete scegliere la taglia, e in più, raga, guardate, c'ha il laccetto regolabile, vedete come spalline di reggiseni, quindi lo potete allargare e stringere, che è figo, per chi come me non vuole i segni sui fianchi delle mutande. e quello l'ho preso anche grigio, grigio e nero, sempre pagato, 7,95, 7,95. In più ho preso la crema della mia vita, gli agrumi, che questa mi dà proprio senso, tipo, di torta, limone, all'arancio, quella che fa a mia madre, il ciambellone, che, vi improfuma tutto, cioè, chiunque viene al negozio, io gliela faccio sentire, ma no, per vennegliela, cioè, nel senso proprio, io dico, senti che te, scusa, ma risparmo, la scusa tattica, no, è proprio buona, cioè, è proprio buona, hashtag, è proprio buona, vabbè, poi mi sono presa, sta piantina, che, diamo, tipo, dopo, i 49 euro di spesa, con il contributo, di un euro, regaliamo, la borzamare, o la piantina, ci sta, girasole, margherita e lavanda, io l'ho presa, il girasole, e, niente, spero che, che mi cresce, insomma, vedrò aggiornati, su instagram, e, l'ho presa, perché mi è morto, il cactus, poi, se mi seguite, su instagram, soprattutto, nelle stories, già lo sapete, che io ho fatto, il romanzo, da sorca nera, per quel cactus, romanzo, da sorca nera, è modo da dire, romano, è come per dire, ho fatto un macello, perché, da conqui, ci avevo, sto cactus, che era il suo, ma lei, ne ha mai fregato niente, quando sono arrivata io, che mi sono trasferita lì, io ho curato, sto cactus, e da così, mi era diventata, una sveglia così grossa, quindi, ero fiera, di sto cactus, io ho detto, un giorno, perché alla fine, io ho lasciato là, non è che mi ero riportata, a casa mia, io ho detto, mettimelo un po' fuori, così, e pia un po' d'aria, ma ha lasciato là, tre giorni, e il cactus, si è preso un fungo, mi si è infettato, ed è morto, e io ho disperata, per quel cactus, e niente, alla fine, mi sono presa questa, con la speranza, che cresce, quindi, sarò mia, pollice verde, ah, poi c'è questo, che mi ero scordata, fa vi vedere, che è quello, che vi ho fatto, su Instagram, c'ho pure la, c'ho pure, la bralette, come le mutande, lilla, ma sta, in lavatrice, e questo, ce lo posso abbinare, comunque, sempre alle mutande, perché c'ha, quel pizzo, riciclato, bucherellato, con sotto lilletto, chiaro, quindi, ok, cogliamolo mai, abbiamo finito, poi c'è, H&M, ho preso, una camicia, pagata, 9,99 euro, tutta rosa, con le righine, bianche, tra l'altro, le righe, messe così, teoricamente, teoricamente, danno, illusione ottica, che sfina, cioè, dovrei avere, una figura più magra, più slanciata, non lo so, teoricamente le righe, così sfinano, vabbè, l'ho presa, perché, mi piace, messa sotto la mia, connellina bianca, che uso sempre l'estate, con crop top, addirittura, legata in vita, coi laccetti, quindi, te fa quell'effetto, texana, però texana moderna, si so, figa solo io, sì, mi hai visto bene, ecco, prendi esempio, chicca, no, com'è, pure ambulanza, ma, te è passata, sta ambulanza, che sentivo un fischio così, ho detto, come fa così davanti casa, se è dissolta nel nulla, vabbè, e quindi, niente, ho presa, rosa, mi piace un sacco, le camicie, tipo, da tenere aperte, con una canottiera, le leggings, vabbè, le uso un sacco, le sfrutto un sacco, sono un sacco, versatili, poi sono andata da diverso, che girano tutte ste magliette, con le scritte, aspettate, telefono messo abbandona, dalla velocità, dalla fretta, sto a usare il telefono, e, girano tutte ste magliette, che le scritte, c'era, no, Maria, io esco, io la volevo troppo, era rimasta l'ultima, ma era sporca, sotto a una scella, di una cosa verde cacco, l'ho detto, senti, mi sono presa, bianca, sto nervosa, che è il mio mood, sto nervosa, e poi, mi sono presa in nero, sono confusa, sono troppo, troppo carine, tra l'altro, oggi, sulla pagina della mia amica Jessica, ho visto la maglietta, che ho scritto, tipo, baciami il culo, sì, è un po' troppo trash, però è troppo figa, la voglio, e, quindi, niente, sono carine, poi vanno de moda, ho detto, vabbè, abbinate con uno stile, un po', un po' casual, ci sta, e, l'ho pagata, e 5 euro l'una, poi, sono andata, da Yves Rocher, che c'avevo, allora, tipo, il benvenuto, era il bagnoschiuma, una cosa del genere, oppure mi hanno dato, perché, non lo so, mi ricordo in realtà, perché mi hanno dato, perché, tipo, se c'avevi la tessera, cioè, se dovevi fatta la tessera, tu regalavano, e, mi sorella, se è fatta la tessera, gli hanno dato, forse gli ho fatto pena, ma hanno detto, oppure a te, e, quindi, niente, quello, in più, mi era arrivato a casa, un coupon, un de plan, che ho scritto, che, mi regalavano la pochette, mi regalavano un mini bagnoschiuma, e c'avevo il 40%, di sconto su un prodotto, e visto che io, so una che sta sul pezzo, mi ero fatta un giro sul sito, e tutte cose, ho visto che era uscita la crema viso, al coso, là, per il sebo, in eccesso, no, per chi ha la pelle unta, quindi, una crema, Vito, Vito, mi sembra una vacanza, una crema, viso, mattificante, e, allora, ho preso questa, si chiama, sebo vegetal, e, e niente, l'ho usata solo una volta, perché, ho detto, se io mi metto a usarla, poi non gliela faccio vedere più, quindi, l'ho rimessa in una scatoletta, ed eccola qua, ha un buon odore, c'ho un sacco di creme, che nascono proprio, per, la pelle grassa, e che hanno il solo scopo, di mattificare, però, puzzano, perché ci hanno degli ingredienti, tipo, strani, tante puzzano di zenzero, tante puzzano di cetro, questa, ringraziando Dio, c'è un buon odore, quindi, niente, se magari avete il mio stesso problema, e volete sapere, ve posso, io far sapere, più in là, come mi sono trovata, ok, il mio incarto, che parole, sono andata da Calzedonia, c'è stato, il compleanno di mio nipote, che ha fatto 18 anni, avevo messo la storia, su Instagram, e tutti quanti, siete impazziti, allora, questo è il vestito, che mi sono messa, io, ero andata fuori, mi sembra fumare una sigaretta, passo, davanti la vetrina, di Calzedonia, e ho fatto, ho detto, appena stacco, io muo bio, appena stacco, io muo bio, so corsa là, e me lo so preso, manco me lo so provato, ho detto, a prescindere, mi deve stare bene, e per fortuna, mi stava bene, è un vestito, a fascia, come li metto io, un po' come quello, con la parte, più stretta, in vita, e poi, partiva, tutta la gonna lunga, cioè, non so, vedete, c'ha tipo, il pizzo, non so, vabbè, regà, è bellissimo, è bellissimo, l'estate sotto, ci mettete una converse, io ci avevo messo, la scarpetta, quella, Jocelyn, che sarebbe, simile a Balenciaga, cioè, ci avevo messo, poi, sopra, sopra la scarpa, il calzino, che uscita fuori, quelli con i fiocchi, cioè, regà, non vi dico, questo, ve potete sbizzare, in realtà, è un copricostume, io infatti, ho detto, oddio, non è che copricostume, cioè, a me si vede il culo, perché comunque, sono dei quei testuti, trasparenti, sotto, ci ho messo, una gonna aderente, DHM, che avevo pagato 5 euro, che è della linea base, quindi, penso sia tutto l'anno, a 5 euro, o 10, e beh, una semplicissima nera aderente, top, l'outfit della mia vita, non vedo l'ora, di andare a fare un aperitivo al mare, e mettermelo, cioè, troppo bello, troppo bello, 50 euro, secondo me è un po' caro, però, veramente troppo bello, poi, passiamo all'ultima busta, che è una bustina di Zuiti, dove ho preso, un crop top fucsia, pagato 9,99, carino, che io, insomma, l'ho visto, ho detto, vabbè, ci posso abbinare la mia cornellina estiva, nera, o bianca, metto il crop top fucsia, e posso usare la mia borsa fucsia, de Valentino, che ho comprato un po' de mesi fa, e non ho ancora mai usato, perché, cioè, il fucsia è un po', il mio primo amore, cioè, il mio amore a prima vista, no? che dice, oh mio, però, non so mai come abbinarlo, no? Allora ho detto, vabbè, ce la pico, e mi ci abbina la borsa, qua c'ha il fianchetto, con la retina, quindi, se vedrà un pezzetto di panza, e qua c'ha un elastico morbido, con scritto, never give up, in più, avevo visto, vicino alle casse, gli orecchini, con, ehm, il peperoncino, ho detto, quanto mi piace, a me piace un sacco il peperoncino, sì, io so che è da vecchie, che si usavano antichi, da, quei cazze, però mi piaceva, lo stavo a naprende, poi l'ho posato, stavo con Conqui, che mi fa, perché hai posati? Io ho detto, perché questi, di solito, si regalano, e, se mi regalo da sola, non fa effetto, no? eh, fatti regalo io, e quindi mi ha regalati lei, guardate che belli, pagati 2,99€, guardate che so, cioè, guardate che so, non so niente di che, però, a me, che mi piacciono, cioè, io ero gasatissima, tra l'altro, anche Carlita, nel suo shop, ha fatto la linea, con i peperoncini, così, che me volevo comprare, ma, poi ho pensato sempre, che non mi posso regalare da sola, e quindi, ehm, non mi sono più presi, tra l'altro, volevo sapere da voi questa cosa, voi siete superstiziosi o no, nel senso, tipo, ehm, mo vabbè, prima ci ho, ci ho fatta la battuta, o forse l'ho solo pensata, vabbè, tipo, venerdì 17, a me, del 17, me ne frega niente, perché non l'ho mai visto un numero, che mi portava sfiga, mentre il 13 sì, solo che, ehm, mi nipote, il secondo, è nato il giorno 13, quindi, da quando è nato mi nipote, il giorno 13, dici, a me, il 13 non mi ha portato più sfiga, e volevo sapere da voi, c'è una cosa che, pensate, porti sfiga, ce credete nella sfiga, non lo so, tipo, tanti c'hanno la cosa del gatto nero, io no, perché, comunque, mi sorella c'ha il gatto nero, alla fine è un gatto come un altro, nel senso, perché deve essere discriminato perché è nero, purello, no? Tipo, poi io c'ho i cani neri, il cane nero non è sintomo, tra virgolette, di sfiga, però, cioè, ma è un cane, come è un gatto, perché dovete dire che porta a Iella, non è vero, però, vabbè, so fisse che magari uno ce cresce, da quando è piccolo, perché magari senta la madre, il padre, il nonno, il zio, queste cose qua, quindi, volevo sapere voi, che stranezza c'avete sotto, questo punto di vista, stranezza tra tante virgolette, il video è terminato, se siete arrivati fino a questo punto del video, non vi chiedo di mettere l'emoticon, ma di commentare con un 17, o con un 13, quindi, niente, fatemi sapere se i miei acquisti vi sono piaciuti, e, qual è stato il vostro pezzo preferito, e se avete qualche stranezza, di quel genere, ci vediamo al prossimo video, e vi mando un grandissimo bacio, ciao!